Ho avuto tanti attestati di stima in questi giorni e mi fa veramente piacere, quindi mi accingo a rivestire questa carica e a svolgere il mio lavoro con grandi motivazioni. Per quanto riguarda Riviera Acqua è un dossier, oltre a Riviera Acqua ci sono altri dossier, ci sono i trasporti, ci sono i rifiuti, li analizzeremo tutti con calma. Noi per quanto riguarda Riviera Acqua sapete che c'è un cammino tracciato perché abbiamo fatto il consiglio provinciale il 24 di aprile, mi pare, e quindi abbiamo fatto le delibere che sono necessarie per portare avanti un percorso. Adesso ovviamente starà un po' alla buona volontà di tutti trovare la sintesi necessaria per salvare questa situazione, che effettivamente è una situazione difficile. Beh adesso è chiaro che devo fare una, almeno una riunione collegiale con tutti gli eletti perché mi sembra corretto. Stato il principio che poi le scelte spettano comunque al Presidente perché sapete io non ho neanche la Giunta, quindi alla fine mi trovo con un potere enorme, ecco se posso usare questa parola, perché certe scelte poi le dovrò fare io direttamente. Però è giusto e mi sembra doveroso consultare prima tutti gli eletti, fare una riunione in questo senso per appunto decidere queste che sono le nomine necessarie per iniziare poi a lavorare tutti insieme. Io comunque sono già qui e da oggi lavoro estremamente. Ma è un misto di sensazioni, direi che alla fine prevalgono e sono felice di dirlo le sensazioni positive a 360 gradi. C'è la soddisfazione per aver portato fino alla fine un lavoro difficile. Diciamo che la provincia per quanto resti povera, perché questo è un dato oggettivo, ha probabilmente riacquistato la sua dignità e la provincia è viva e la provincia comunque è organizzata. Diciamo che rispetto alla situazione che avevamo trovato con lo stesso Abbo, che è stato uno dei miei compagni di avventura, non per responsabilità di nessuno internamente all'ente, ma era una situazione molto molto critica e con prospettive assolutamente incerte e vaghe. Oggi il quadro è più chiaro, non è un quadro che deve far salti di gioia, ma diciamo che siamo in una situazione obiettivamente più stabile e più ordinata, come dicevo in precedenza. Quindi sono fiducioso del fatto che Domenico Abbo, come ha annunciato, porterà avanti con lo stesso spirito la guida di quest'ente. Mi auguro che i consiglieri lo aiutino, come hanno fatto con me. Mi fa molto piacere, non lo nascondo, perché ci sia come successore Domenico Abbo, perché è un amico di vecchia data, perché mi ha aiutato in questo percorso e perché è un sindaco non ultimo, un sindaco di un piccolo centro, il comune di Lucinasco, che si vede col mio comune che io amministro, il comune di Cesio, e quindi appartiene a una realtà, quell'entroterra, che è in grado, credo, di esprimere anche valori ed eccellenze. Abbo è una persona molto formata anche da un punto di vista amministrativo, c'è anche una vicinanza politica, questo lasciatemelo dire, e quindi sono convinto che saprà operare molto bene, anche perché conosce molto bene quest'ente ed è un uomo che non ha mai lesinato impegno e onestà intellettuale. Erano le due promesse che avevo fatto quattro anni fa quando mi ero preso questo impegno, credo di averle mantenute e sono certo che anche Abbo le manterrà.